scegliere dei dolci ad alta produttività che cosa significa fare delle preparazioni semplici da fare da replicare buone ma con meno passaggi quindi cercare di sintetizzare bene le varie ricette e cercare di massimizzare il più possibile il laboratorio cercando di renderlo più snello allo stesso tempo con attrezzature più all'avanguardia che possano aiutare il team a lavorare in maniera ancora più veloce e allo stesso tempo bisogna fare delle scelte bisogna produrre quello che veramente ha una grossa commerciabilità quindi che si vende bene che ha realmente delle grandi potenzialità di vendita e quindi avere una costanza nel tempo cercando di avere uno standard nella qualità nella produzione e soprattutto sempre e comunque nel prodotto finale visivo